Se ti piace viaggiare con tutta la famiglia o in comitiva con gli amici il Kronos 274 TL è la risposta di Roller Team che fa al caso tuo. Perché è pensato per i camperisti alla ricerca di un mezzo in grado di ospitare equipaggi numerosi, avere una grande abitabilità e perché no anche un look dinamico e accattivante. Lungo 7 metri e 33 centimetri è in grado di accogliere fino a 6 persone sia durante il viaggio che di notte. Ma saliamo a vedere nel dettaglio. L'ingresso è situato nella parte posteriore del veicolo in modo da dare ampio respiro alla zona giorno, vero cuore pulsante del mezzo. La dinette è formata da due comodi e confortevoli divani contrapposti servita da un tavolo centrale a isola con movimentazione sia orizzontale che trasversale. Una conformazione che invoglia alla convivialità. Grazie ai sedili guida girevoli la zona si trasforma in una vera e propria sala da pranzo a 360 gradi. Immagina di fare colazione con tutta la tua famiglia o una bella partita a carte con gli amici. Proseguiamo il nostro viaggio verso la zona centrale del veicolo. Qui troviamo il blocco cucina AL con cassetti capienti a chiusura soft close. Fronteggiato a sua volta dal capiente frigorifero a colonna in conformazione slim da 140 litri con cassetto portabottiglie separato. Tra la dinette e il frigorifero trova posto un bell'armadio guardaroba. Il locale bagno invece è sviluppato in un unico ambiente compatto, ma arioso e luminoso allo stesso tempo grazie alla finestra. La doccia è separata dalla porta rigida in modo da ottenere comunque due ambienti distinti. Come abbiamo detto, Kronos 274 TL può ospitare fino a 6 persone in notturna. Vediamo come sono distribuiti i posti letto. Due letti a castello trasversale si trovano posti in coda all'abitacolo, abbinati a un piccolo gavone garage a volume variabile. Un matrimoniale basculante discende elettricamente sopra la zona giorno. Altri due posti si ricavano dalla trasformazione del living in un grande letto matrimoniale. Le tecnologie da alto di gamma, XPS Evo e Brest, garantiscono l'isolamento del veicolo. La protezione assoluta dagli agenti esterni e la reazione permanente. L'assenza totale del legno nella struttura delle pareti. La copertura superiore e inferiore in vetro resina. La protezione perimetrale in estruso e rivestimento in PVC fanno della gamma Kronos, come di tutta la gamma Roller Team, un prodotto in grado di offrire soluzioni di alta qualità a prezzi vantaggiosi. Solido, sicuro e durevole nel tempo. E garantito sei anni contro le infiltrazioni. Inoltre Kronos 274 TL è completo nelle dotazioni. Un prodotto all inclusive che annovera di serie numerosi equipaggiamenti e accessori, dedicati sia alla parte meccanica sia alla cellula abitativa. quali clima manuale, airbag guidatore e passeggero, cruise control, predisposizione autoradio DAB Plus, radio Bluetooth con comandi al volante, paraurti verniciato, porta con sinistra fissa, zanzariera porta ingresso, tetto panoramico, telecamera per la retromarcia e pannello solare. Grazie a tutti.